Alessio Selvaggio del Birrificio Croce di Malto di Trecate è stato ufficialmente nominato quale uno dei venti candidati al premio nazionale, birraio dell'anno, la cui celebrazione si terrà sul palco del Tascani Hall di Firenze il 20 e 21 gennaio. Il mastro birraio trecatese ha raggiunto le fasi finali del concorso, confermandosi un'eccellenza nazionale in un settore altamente competitivo. In Italia risultano attivi 1.300 euro. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.